Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Guardo in giù perché c'è un gatto che mi vuole andare in collo e mi tira in giù per i pantaloni. Ciao, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, come avete letto dal titolo, oggi parleremo di la mia rotazione di profumi settimanali. Profumi che ho usato questa settimana che avevamo percorso e che sono stata felicissima di averli usati perché sono profumi molto freschi. E siccome la settimana che abbiamo trascorso era molto caldo, era arrivata la primavera, cosa che dura da poco perché da noi c'è un'aria ghiaccia e hanno messo mercoledì o giovedì meno un grado, meno due gradi. Quindi, se ritorna tra le tenebri del nebbia, freddo, pioggia, vabbè, vanno le ciance. Prima di cominciare voglio ringraziare tutti indistintamente i nuovi iscritti, vecchi iscritti. Grazie, grazie, grazie. Trucco di oggi, questo rossetto liquido di Astra, che io adoro i rossetti liquidi di Astra. Le adoro, quelle di Astra e quelle di Stefano, le adoro. A volte spendiamo tanti soldi per i rossetti e ci sono dei rossetti che costano meno e sono bellissimi. Questo è il numero 13, Gossic, Giorf, lui, è un color mattone, bellissimo, tipo un corallo mattone, bellissimo. Poi ho provato, infatti si vede che sono un po' rossiccia, ho provato a usare i prodotti Ciglaine che avevo comprato in crema per vedere come mi trovavo con le creme. Questo è il risultato. Mi piace questo il blush che è bellissimo. Stupendo, anche se dopo ci ho passato quel blush di Mario, By Mario. Ma questo colore corallo è bellissimo per l'estate. E il bronze è questo. Questo è il corallo che si chiama... Anastin and Blush. Sì, ciao, non leggerò mai. Se mai me lo scrivo nell'info box. E questo è il bronze per il contouring. Vedete che è un po' freddino, ma è molto chiaro per il mio incarnato. Dovrei prendere uno più scuro. Questo è davvero molto chiaro. Però per cominciare a non fare mattoni, non fare macchiattoni, andava benissimo questi colori qua. Veramente top, top. Mi posso buttare su i prodotti in crema. Allora, dopo aver fatto vedere il make-up che ho usato con gli occhi, non ho niente. Perché, mi ripeto, ho le ciglie, le station alle ciglie. E ho comprato, sì, tanti pali negli ultimi tempi. Io ora non mi trucco gli occhi. Quest'estate, ma poi dopo, a settembre, ottobre, ripartiremo con i nostri trucchi agli occhi. Allora, profumi che ho usato questa settimana e partiamo per il primo Sion Witte di Christian Siriano da donna. E questo profumo con un packaging molto particolare che a me non piace per niente. Mi sa di pacchiare, mi sa di... si stacca così. Sembra una gonna. Ma il profumo è davvero fantastico. È anche un po' scomodo da... Buonissimo. Ma buonissimo, buonissimo. Qui ci dice che è un profumo ambrato, muschiato, è un profumo fruttato, fiorito. È un profumo vanigliato, agrumato, dolce, aromatico, espessiato caldo, espessiato freddo. È bellissimo. Davvero molto bello. Con una persistenza, diciamo, media. Mi basta, ma neanche altissima, media. Che per il periodo che può andar bene, perché tanto quando c'è caldo, quando c'è sole, non vogliamo profumi che spaccano i cervelli degli altri. Qui troviamo in testa il rives nero, mandarino, pompelmo e mela verde. E notte verde. Con un cuore di fresia rosa e gelsomino. Con una base di fava tonka, ambra, benzoino, del cyan, muschio semi d'ambretta e muschio di quercia. Tanta roba. Tanta, soprattutto la partenza con questo rives nero, scorto mandarino, questo pompelmo, questa mela verde. Bellissimo profumo, ma veramente molto fresco. Sento moltissimo la frutta, ma sento tantissimo anche l'ambra in questo profumo. Anche il gelsomino. È veramente molto, molto carino questo profumo. Io ve lo consiglio davvero. Non lo date per scontato, anzi, mi piace più lui che il fratellino che è tutto viola. È davvero stupendo. Dove l'hai preso, Ami? L'ho preso, se non mi sbaglio, o su Nodino o su Dallas. Cercatelo, tanto giù mi scrivo il nome per bene e nell'info box. È bellissimo. Secondo me è molto bello. Molto carino. Quella via di mezzo, tra il fresco, il dolce, i fioriti e i fruttati. È buonissimo. Un altro profumo che ho usato con molto piacere questa settimana. È questo profumo New York Espac di Katis Espad. Dove sei? Dove sei? Questo. Che l'avevo già usato. È il suo fratellino color rossa. E questo è buonissimo. A me piace di più ancora lui. Il suo fratellino, anche per quando è più caldo, non c'è il rogatore molto bello. Fa uno spruzzo, una fontana, vedete? È molto bello questo profumo. È veramente fresco, frissantino, piccantino. Un po' asprino. Devuto a qualche nota che è un po' asprina. Però, per le giornate calde, che vogliamo questi dolcini un po' fruttati, un po' va benissimo anche questa tipologia di profumo. Questo dice che è un fiorito, dolce, fruttato, legnoso, vanigliato. È speziato caldo, legnoso, rossa. È speziato freddo, talcato. È un profumo un po' asprino, però dopo nel secato ha questa parte un po' talcata. Che sa di pulito, che sa di fresco, di carino, di coccoloso, se vogliamo. È davvero molto, molto carino. Anche lui da usare quando c'è caldo. E ho capito come mai c'è questa parte asprina. Anche qui troviamo, come in quell'altro, rivesneros e peper rossa. Con un cuore di peonia e bianco spino. Poi troviamo un fondo di vaniglia, crema, bain brûlée e legno di cedro. Quindi è un profumo, come ho già detto, cremosino, coccoloso. Devuta crema a questa crema bain brûlée. Ma questa parte è legnosa, da questa parte talcata, elegante, vanigliata. E' molto, molto carino da tenere in considerazione, visto che ha un costo medio. Perché costerà sui 45 euro, non ricordo. E' molto carino. Tanto, tanto, tanto. O 55, e me l'ho rivolto. Allora, un altro profumo che userò sicuramente quest'estate, tanto, tanto, tanto. Perché è il giorno che ha fatto più carino assoluto, che è stato il sabato. O è la domenica. Io, il sabato, io ho usato lui. Stiamo parlando di Toast Eudé Parfum di Toast, donna. Questo qui con l'orsetto, questo qua, che è fatto così. E' un profumo, no, non è un profumo bomba. E' un profumo che, anche se c'è chito profumo, è come se forse è un Eudé Toilette. Un profumo accoso, molto fresco, molto ligero, molto aria. Non è che ha questa persistenza, questo sillage, questa... L'altro si lasciano un po' la cia, profumi da complimenti, quegli altri. Questo è godurioso da indossare. E' fresco, fresco, fresco. E' agrumato, e' energetico, e' vitaminico. E' bellissimo, bellissimo, bellissimo. E' freschissimo da indossare quando c'è tanto caldo. Adoro, adoro indossarlo quando c'è tanto caldo. E' al suo perché? Perché dopo una doccia, ha dato questo, dopo una crema. Dura quelle tre o quattro ore. Ma soprattutto, e' una goduria per te stessa. E' una bontà di freschezza. Qui troviamo che è un fiorito, che è un agrumato, fresco, muschiato, con questa nota di pasciuli. E sono quelle note che abbiamo negli accordi principali. Quindi, questa freschezza degli agrumi, con il pasciuli, con i fiori, fanno sì che questo profumo è molto carino. Ma tanto, tanto. Io sono convinta che al mare, ve lo espluserò dopo la doccia come se non ci fossero domani. Quindi, a settembre lo vedete qua, più o meno. Perché ne avrò altri profumi con me. Troviamo in testa un'apertura di note fiorite, limone, amalfi e mandarino. Con un cuore di freschezza, peonia, rives nero e gelsomino. E' un cuore di muschio, pasciuli e ambra. Quindi, cosa dire, pasciuli, muschio, muschio, ambra. E' un finale molto, molto, molto cicchettoso, anche se questo è molto fresco. Ma la parte fiorita della partenza, con quel limone, amalfi e quel mandarino, è una bontà, una bontà meravigliosa. Se avete uno spruzzino e volete mettere un po' di questo profumo, quando c'è caldo, nello in borsa e spruzzarlo. E' una bontà. Costa una cippa. Davvero una cippa. Parliamo di un profumo arabe, che io ho amato, che io amo, che io ho usato questa settimana e ho adorato. E parliamo di Kiss Make for Woman, my son, Alhambra. 3, 2, 6. E anche lui fa imitazione a un profumo di Kilian. Infatti la bottiglia è molto simile. Sei già ossidato da quando è con me, che prima era più trasparente, gli è diventato giallino. Questo è una bontà. Una bontà. Questo è un profumo, se vogliamo, gourmand. Ma un profumo gourmand molto carino. Non proprio un gourmand di quelle dolce, dolce, come si lega a me, adoro. Questo è un gourmand un po' lattonico. Ha una certa similitudine a biancolate e ha tanti altri profumi che assomigliano a biancolate. Ma questo è un profumo che imita un profumo di Kilian che dicono che è il profumo che usa una cantante americana. Che adesso non ricordo. Io chiedo scusa, ma io quei nomi sono una frana. E lei dice perché parli di profumi? Perché profumi leggo i nomi. Se non lo so pronunciare, li scrivo dopo bene. Perché i profumi sono la mia grande passione. E se non lo so spiegare bene, spiego le mie emozioni, le mie sensazioni da amante dei profumi. Ma no intendo i delici di profumi. Questo è un profumo molto lattonico, molto coccoloso. Molto gourmand, ma un gourmand, un dolcino gourmand un po' lattonico. E' bellissimo, ti viene voglia di bello. E' bellissimo. Qui troviamo fiori bianchi, tube rossa, frutti, rossa, e l'actonico, ambra. Penso perché qui c'è un'altra lingua. Io devo, quando scarico le note, bisogna che io guardi che siano in italiano. Allora, qui troviamo l'albicocca, la rossa e la... Dove era prima? Allora ve lo dico, eh. Gelsomino. E il gelsomino. Poi troviamo, nel cuore, la tube rossa, il narciso, nel fondo, l'ambra, il cedro. Questo è buono. E a chi non vuole spendere tanto, perché i profumi di gourmand li piace, né relativamente, ma vuole avere nella sua collezione o nei suoi profumi, se non è una collezionista, un profumo gourmand. Questo è una bellissima ossione, perché è un gourmand, ma non un gourmand che dia la testa, è un gourmand molto tranquillo, è un gourmand fruttato, lattonico, fiorito, è un gourmand davvero bellissimo, che assimilia molto quel profumo che stava protagonando di Kilian. È spettacolare. Quindi io ve lo super consiglio. Poi andiamo a parlare di un altro profumo che io ho amato, io amo, io adoro. Da quando lo fece vedere una mia carissima amica su youtuber, ora il nome del canale me lo ricordo, lei si chiama Barbara, lo fece vedere, che anche questo assimilia, imita un profumo di nicchia, di BK, come si chiama quei brand? K, ah non me lo ricordo, che si chiama BK, mi ricordo come si chiama, insomma Grace, Grace Knight, oggi proprio sono una frana, più del solito, non mi viene il nome del profumo, insomma lui assimilia un profumo di nicchia, di BK, non mi ricordo. Si chiama Ambra Grigia in inglese, non me lo ricordo. È davvero molto simile a quello lì, anche se quello lì, anche il colore è simile, anche se quello lì ha una persistenza, ha un profumo di nicchia, ma questo ha meno persistenza, ma non è che non dura niente, anzi io mi accontenterei di questo perché quell'altro costa 190 euro e penso che anche se è un profumo che mi piace tanto, ma per il momento non lo acquisterò e mi accontento di questo, l'ho messo in bocca. Ho una bellissima persistenza, ho un bellissimo sillage, io ve lo super 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 consiglio e mi piace tantissimo, è un profumo che è legnoso, è speziato caldo, è vanigliato talcado aromatico dolce e Ambrados con una nota di iris, ma anche una nota balsamico. Questi sono gli accordi di questo profumo che si chiama Lian di Latafa, profumi unisex. E nel nostro troviamo Cardamomo, Fico e Tenero. In il cuore troviamo Iris, Lagdano e Betiver. In il fondo troviamo Sandalo, Pasciuli, Favatonca e Vaniglia. Queste quattro note in il fondo sono un qualche di magico, gente. Fidatevi, questo profumo, io direi come ha detto lei, come ha detto Barbara, fermate e andate a comprarlo. Questo profumo non vi deluderà. Questo profumo è un profumo da usare tutto l'anno. È un profumo da avere sempre e comunque, un profumo da spruzzare sempre, quando c'è caldo, quando c'è freddo, per andare a letto, per andare a fare la spesa. È bellissimo! E quindi io ve lo super consiglio. Poi quando sentiamo queste note, il Fico, il Tenero, ma soprattutto Sandalo, Pasciuli, Favatonca e Vaniglia. In il fondo è una bomba di bontà. Anche lui, una bella persistenza, anche lui, un bel sillaggia, anche lui, riceve di complimenti. È stupendo! Un altro profumo arabo che io sono impazzita quando l'ho comprato e ne ho parlato qui nel canale a tutta Randa, l'avete comprato in diversa. Io sono impazzita che me ne sono comprato due, anche un altro. Qui parliamo di Sul Toll, di La Taffa. La Taffa, negli ultimi due anni, si è buttata davvero nei profumi che tra i packaging, tra le profumazioni. È arrivata una dei brand più venduti in tutto il mondo di questi profumi arabi. Non era tra il mio preferito, però io lo adoravo già allora e lo amo anche adesso. Adoro, 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 adoro. Whisk, Strix, Saravia era il mio preferito. Però adesso io la Taffa sta sfornando questi profumi che sono veramente delle bombe, delle bombe. Per non parlare dei packaging. È spettacolare. Qui è un legnoso, ambrato, speciato caldo, vanigliato, fruttato, talcato, dolce, balsamico, aromatico, agrumato. Quindi questo è un profumo che io consiglio anche lui da usare tutto l'anno, da usare primavera, estate. Perché è un agrumato che dopo, quando va via questa parte agrumata, si viene a sentire nella sua evoluzione, quando secca. Questa parte dolce, fruttata, succosa, cremosa e caramellosa. È fantastica. È un profumo, nonostante che lo trovo che sia un gourmand anche lui, ma è un gourmand che parte molto fresco, agrumato. Quindi è portabilissimo. È bellissimo. Anche lui è bellissimo. Qui troviamo, è nella piramide di questo profumo. Troviamo, troviamo, in testa, pesca, arancio, rosso e cardamomo, eliotropio, con un cuore di brandy, rum, gelsomino, davana. E nella base troviamo benzoino, vaniglia, legno di casme, sandalo, estorage, betiver, pacciulli, fava tonka e lagdano. Dove c'è fava tonka, sandalo, vaniglia, lagdano. Mamma mia, come è buono, come è buono. La mia amica, l'amica youtuber preferita, ne parla sempre di questo profumo e ha ragione. Perché è fantastico, 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 fantastico. Con questa chicca io ho finito questo video, la mia rotazione dei profumi. Io vi ringrazio tantissimo. Io vi mando un grandissimo bacio. Io vi dico sempre, e non mi stancherò di dirvelo, mi guardate, mi guardate tanto perché lo so che mi guardate. Ma non vi iscrivete e non mettete commenti. Se mi guardate, cosa vi costa scrivervi al mio canale? Cosa vi costa scrivere un commento? Perché lo fate? Di guardare, prendete più tempo a guardarmi che a cliccare, scriverti e mettere un commento. Perché non lo fate? Scrivetemi giù perché non lo fate. Io sono la risposta ma non ve la voglio dire. Perché voglio sentire la vostra bocca? Perché non lo fate? Comunque, io a quelle che vogliano giustamente, perché per forza non se fa neanche l'aceto, chi vuole aiutarmi a crescere, chi vuole aiutarmi a far sì che io abbia stimoli per essere qui, dedicare del mio tempo che è prezioso per tutti, dedicare del mio tempo per fare una cosa che mi piace fare, ma soprattutto per preparare video bene, male, ma per essere qui. Quindi io dedico del mio tempo a voi e quindi io vi chiedo solo di premiarmi, di iscrivervi al mio canale, visto che non costa nulla, ve lo dico sempre, non costa nulla e quindi perché non iscrivervi? Mi aiudate a me, perché non farò un commento? E quindi proprio perché io sono qui per me e per voi e per tutti quelli che hanno voglia di guardarmi e per tutti quelli che sono curiosi di vedere i miei profumi, di vedere la mia recensione, di sentire i miei consigli, quindi iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. Quindi io vi mando un grandissimo bacio e vi invito al prossimo video. Ciao!